Sono il preside del Liceo Galilei di Legnano, una scuola di notevole dimensioni, 1300 studenti, 56 classi, oltre 100 insegnanti. Qualche anno fa abbiamo affrontato il problema di riorganizzare la comunicazione interna e anche la comunicazione esterna della nostra scuola. Ci siamo trovati di fronte alla necessità di contemperare, da un lato, l'esigenza naturalmente sentita in tutte le scuole, in tutte le amministrazioni pubbliche, di rinnovare andando sulla strada della dematerializzazione, della digitalizzazione. Dall'altra però avevamo e abbiamo tuttora la convinzione che i due sistemi, digitale e cartaceo, in un ambiente come il nostro, con le nostre necessità, debbano convivere. Per cui abbiamo cercato sul mercato una macchina, una stampante, che potesse soddisfare le nostre esigenze. La ricerca ci ha indirizzato su questa stampante Risograph, che poi abbiamo adottato, per una serie di ragioni. Intanto il bisogno che avevamo di unificare diversi strumenti che avevamo adottato nel corso degli anni in un'unica macchina che compendiasse in sé diverse funzioni. Dall'altra anche la necessità di unire gli utilizzi più tradizionali e conosciuti nella scuola con degli utilizzi nuovi che fossero interessanti sia dal punto di vista tecnico-tecnologico sia dal punto di vista dell'economicità. Per cui da un lato il bianco e nero, che naturalmente in una scuola è sempre fondamentale. Dall'altra però un utilizzo delle stampe a colori che sia dal punto di vista della qualità sia dal punto di vista del costo fossero per noi qualificanti e interessanti. Da questo momento in poi, da quando abbiamo iniziato ad utilizzare questa macchina, ad esempio, questo è un esempio fra i tanti, tutto il materiale che davamo all'esterno, una stamperia, materiale per l'orientamento, brochure pieghevoli, quindi parliamo di stampe a colori su carta di buona qualità, l'abbiamo realizzato all'interno con i nostri tecnici, con le nostre scelte grafiche e l'implementazione data da questa stampante in Rater. Buongiorno, sono un utilizzatore di questa macchina, è una macchina eccezionale. Ci facciamo qualsiasi cosa serva in istituto, dalle fotocopie dei docenti a quelle dell'amministrazione, fotocopie normali, fronte e retro, puscoli, bianco e nero, colori, cartoncino, buste. Il lavoro della scuola a colori l'abbiamo fatta con questa macchina, su un cartoncino particolare, le buste che utilizza la scuola le stampo io su questa macchina. Possiamo fare qualsiasi cosa ad una velocità notevole, le fotocopie con carta normale sono velocissime, non abbiamo più tempi morti, stampo direttamente da scanner o da computer, posso lavorare contemporaneamente mentre uno fa una fotocopia, io invio i miei file e non abbiamo perdite di tempo. Questa macchina è la soluzione dei nostri problemi. E infine, un'ulteriore ragione estremamente importante, certamente non secondaria della scelta, è l'impatto ambientale di questa macchina. Una macchina che funziona a freddo, quindi che esclude le emissioni di polveri, le emissioni di ozono e che consenta ai nostri operatori di lavorare in assoluta sicurezza. Credo che oggi sia un fattore determinante per una scelta in qualsiasi azienda o in qualsiasi istituzione pubblica come una scuola.